La critical mass è planetaria, siamo in compagnia di un ragazzo che viene direttamente dal Giappone, lui è Luca, che ci darà una mano a tradurre un po' dall'inglese, questo Luca dicevi che è la traiettoria? È il percorso che lui ha fatto dal Giappone, dal 2002 è partito in Giappone, ha fatto tutto questo giro per l'Asia facendo vari paesi, Cina, Malesia, Laos, India, Tibet, i vari paesi, Iran, Iraq, ha fatto tutti i paesi arabi, l'Europa, il resto dell'Europa fino ad arrivare qua in Italia, dal 2002. Cosa ti ha spinto a intraprendere questo viaggio? Ha detto che praticamente perché vuole la voglia di vedere il mondo e la bicicletta è un mezzo che permette di fare questa cosa in maniera non veloce, è molto lenta, quindi ti permette di anche evidentemente di ragionare sulle cose e a conclusione di questa esperienza ha detto che lui vorrebbe scrivere un libro su questo viaggio che ha fatto. Quando pensi di ritornare in patria? Quando probabilmente tornare a Giappone? Dopo l'Europa, io andavo all'Africa, all'America Sud, all'America Nord, all'Europa, 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 all'Europa più anni. Ok, ha detto che hai inteso di vedere prima l'Africa, poi il Sud America, sempre in bicicletta e altri cinque anni e probabilmente tornerà in Giappone. Quindi nel lontano 2015? In 2015, è una lunga via di andare. C'è qualcuno che ti ha aiutato in questa spedizione personale o hai fatto tutto da solo? Ha detto che non ha sponsor, però ha detto che guadagna qualche soldo facendo trucchi magici e cose del genere. Quindi è un artista, lui si guadagna da vivere facendo giochi di prestigio. Ecco, un applauso anche perché se possono essere 100 euro. I can't be all'10, lo si, uno, due, oh! Very good! Very, very good! Ti stai portando? Quali sono le città che più ti sono piaciute? La cosa più bella sono le persone, la lingua fondamentalmente non è un ostacolo, a lui è proprio il sentire le altre persone, nonostante ci possa essere qualche differenza culturale o di lingua, dove lo capiscono, insomma, tanto di guadagnato. Però, detto, la cosa più importante è conoscere altra gente. Quindi oggi starà insieme a tutti quanti? Experience! Ok! Thank you! Thank you very much! Grazie, molto grazie! Arigato! Grazie a tutti!